Benvenuti a una nuova puntata di Naba Meets Alumni, sono qua con Simone Bozzelli. Ciao. Simone benvenuto, come sai noi facciamo queste chiacchiere con diciamo con gli alunni della Naba che hanno fatto la loro crescita diciamo professionale e poi hanno fatto delle carriere. Tu che sei uno dei diciamo giovani autori, registi che ci sono adesso, lo dico con coscienza perché comunque fa parte anche del mio lavoro quello di capire chi c'è in giro, ti faccio i miei complimenti e siamo qua per fare due chiacchiere. Tu ti sei laureato quando? Io mi sono laureato nel 2017, febbraio 2017. Quindi da pochissimo. Quando è che hai cominciato, stiamo parlando del prima del Naba, mentre stavi crescendo, nella tua evoluzione diciamo da adolescente, c'erano dei momenti in cui hai detto ah guarda ho incontrato quella persona, ho visto quella cosa, ci sono dei momenti in cui hai detto cavolo quella è la cosa che vorrei fare? C'era questa videoteca sotto casa mia e ci andavo sempre. Ero attratto da quel posto lì in maniere differenti, nel senso che noleggiavo i film, poi li masterizzavo, li riportavo entro mezz'ora e non pagavo niente. Quindi da una parte c'era questa cosa un po' hacker che sentivo. Dall'altro ero appassionato delle locandine di questi film, quindi proprio a livello grafico. Quindi ero ossessionato dalla grafica del film e poi ho incominciato a interessarmi proprio del film in sé. Della modalità. Della modalità del film. Del linguaggio cinematografico. Esatto. E da lì credo sia partito tutto. Ma tu sei uno di quelli che poi aveva la telecamera e filmava cose, facevi i tuoi, facevi i tuoi filmini come Spielberg? No. Io fino all'anno scorso non avevo... Hai fatto così? Hai fatto? No. Io fino all'anno scorso non avevo una mia telecamera, me la sono comprata adesso per, come dire, tenermi un po' esercitato, per fare delle piccole cose mie, ma che non per forza devo pubblicare. Però non ho mai avuto, non sono mai stato proprio figura videomaker. Mai. Quello mai. E anche perché mi sono sempre poi ho sempre visto il cinema anche come un'arte... Il bello del cinema è come un'arte collettiva, no? Ci sono molte arti che magari sei tu con il mezzo, quindi non solo la macchinetta fotografica, con la tela... E invece una cosa che mi interessa di genere è proprio il fatto che dipendi da altre persone. Certo. E tutti dipendono da te. È una cosa, insomma, di interdipendenze e... Esatto, di interdipendenze di Valenti. È verissimo. Sì, sì. Quindi tu a un certo punto ti innamori un po' del cinema, un po' per caso, un po' perché facevi l'hacker... E di colpo la Naba come è arrivata a te? La Naba è arrivata a me attraverso una mia insegnante di inglese. Io sono di Pescala, quindi mi ha dato questo puscoletto Milano che sembrava... La grande città. La grande città. Sì. E poi ho fatto un open day qui e ovviamente ho respirato poi tutto quello che la grande città si porta dietro, quindi tante persone che vengono da tanti posti del mondo, d'Italia. e ho respirato un ambiente che a Pescala non conoscevo e che sicuramente ha indirizzato anche la mia scelta. Questi anni che hai passato qua, in realtà, cosa hanno fatto a te? Cioè, quando sei entrato e quando sei uscito, sei uscito una persona diversa? Beh, sì, totalmente. Perché sia la città Milano in sé ti cambia, ma anche a livello di... Io ho sempre premuto i professori, mandavo le mail anche di notte. La cosa bella a cui ho avuto con i docenti è il fatto che si creava sempre un grande rapporto di stima reciproca e di scambio. Cioè, magari ero io alcune volte che inviavo il film che avevo visto al festival di Canicati al docente e lui mi inviava il link, Vimeo, con la password di un film magari che aveva appena visto o di un suo ex allievo che aveva appena finito di montare. Quindi si è creato sempre questo scambio molto interessante. Il passaggio tra volevo fare il montatore e volevo fare il regista è successo qua? Sì, è successo qui perché c'era al secondo anno questo corso di regia in cui tutti per forza dovevano fare un cortometraggio. Ed era, diciamo, il corso più temuto, perché comunque si metteva anche un po' in gioco un processo di scritto e diretto, quindi anche di scrittura e quindi in un certo senso anche di interiorizzazione un po' autoriale. Che poi autoriale non significa mettere su carta il dramma che ti è successo nella vita, è anche un dover dire al mondo cosa ti piace, cioè nel senso che tipo di cinema ti piace. Quindi, cioè, è comunque uno bello statement anche per un piccolo cortometraggio. Non deve neanche essere una cosa seria o una cosa drammatica, deve essere una cosa autobiografica. Può essere anche una storia stupida, un racconto che fa ridere. Esatto. Però di colpo tu devi metterti davanti al fatto che devi raccontare una cosa che hai editato tu. Esatto. Cioè che anche nel grottesco, comunque tu devi dire a me piace questa cosa qui. Sì. E mi sono un po' confrontato con questa domanda e mi è piaciuto soffrirci per questa domanda e trovare una risposta che non ho ancora trovato, ma lo devo ancora trovare bene mai. Non deve essere sempre la stessa risposta neanche. E non deve essere neanche la stessa risposta. Sì. E per fortuna è un cortometraggio che è andato poi bene in termini festivalieri. E gli ho detto, ma facciamo meno un altro. Non faccio mica schifo. Sì, esatto. Perché poi è anche importante il feedback che il cor… cioè comunque quello che realizzi dà. La cosa bella, almeno quello del mio corso, è stato il fatto che veramente abbiamo fatto tantissime cose da appunto quello che riguarda web design, la grafica, che poi mi rendo conto di come tutto poi nel momento in cui devo organizzare il mio profilo Instagram, nel momento in cui devo scegliere il font del titolo del mio film. Cioè sono tutte cose che poi fondamentalmente hai… almeno hai coltivato un gusto per quella cosa lì. Perché magari hai dovuto fare un esame in cui hai dovuto scegliere il font per quel poster lì, per quella cosa lì. Quindi è qualcosa in cui hai già passato… cioè ci sei già passato e già ti sei chiesto. Trovo molto interessante questa cosa che tu fai dove lo metti sempre anche nel linguaggio visivo. Mi hai raccontato che andavi alla videoteca e ti piaceva la locandina oltre che il film, no? Che hackeravi. adesso stai parlando non solo del tuo film ma stai parlando della font del tuo film. Quindi la parte visiva. Quanto è importante… ora è una domanda quasi più che retorica, ma quanto è importante il bello? E il bello è… uso le virgolette all'americana, eh? Sì, per me appunto il bello è il coerente, ma che non significa che per forza deve essere tutto armonioso, cioè ci può essere anche appunto ordine nel proprio disordine. Assolutamente. Però l'importante è che c'è la parola proprio davanti, no? Sì, sì. Il proprio incoerente. Bello, molto bello, bravo. Bella cosa perché è proprio quella cosa lì, l'hai detto bene perché non è solo fiorellini e farfalle. Sì, o comunque per forza qualcosa che… perché uno può pensare a coerenza e quindi in un momento drammatico coerentemente devi mettere una musica altrettanto drammatica, magari è più interessante mettere qualcosa di estremamente contrario. Sì, sì. Quindi… e in quella tua coerenza che ti dai perché proprio capisci quello che stai facendo… ce l'hai una storia che ti è rimasta in mente degli anni della Naba che vuoi o puoi raccontare? Guarda, è molto collegata forse a questo… alla realizzazione di questo mio primo cortometraggio in cui praticamente avevo fatto il mio montatino, ero tutto contento. Lo faccio vedere al docente. Sì. e lui sentivo che non gli era piaciuto, comunque ha voluto mettere del suo, ha cominciato a dire ma questo corto l'hai chiamato mio fratello, ma perché non lo chiami fratello mio? Poi a un certo punto vinciò a dire ma perché non cominciò a mettere dei neri in cui si sentono tipo dei rumori di catene di un carcere? E io tipo sono uscito e ho detto ma ora cosa esce? Anche perché poi si è combattuti dal fatto che ok hai fatto il tuo lavoro però poi fondamentalmente ci devi fare l'esame, quindi il consiglio che ti ha dato un po' è per farti prende 30 diciamo. Certo. Non l'ho fatto e lui mi ha messo tenta comunque per dire nel senso che comunque la cosa bella che mi ha insegnato è il fatto che alcune volte non per forza devi assecondare con piacere quello che ti è un consiglio che magari ha anche un rapporto di potere abbastanza importante sul prodotto, quindi quello che può essere appunto un produttore, che può essere magari… ho incontrato Spielberg che mi ha detto mandami il link Vimeo, che non è per forza importante perché poi quello che dicevamo prima è la tua coerenza che vince e che rende il prodotto così com'è. Molto probabilmente le sue idee magari potevano essere anche interessanti però non facevano parte di quel ecosistema che avevo messo io e molto probabilmente non sarebbe andato bene. Sì devo dire che soprattutto sui progetti autoriali questo è molto vero quando poi lascia stare le politiche e le diplomazioni, è molto bello questa cosa dove dici guarda io volevo raccontarlo in questo modo e non ho compiaciuto a una scelta esterna, a un giudizio esterno perché non lo trovavo giusto per quello che era coerente con quello che avevo raccontato. Sei entrato volendo fare il montatore, quando sei uscito com'è che ti descrivevi? Allora quando sono uscito mi descrivevo come montatore e sono andato a lavorare come montatore in una casa di produzione qui a Milano. C'è stato questo periodo in cui dire faccio il regista mi sembrava un po' come dire ah voglio fare il cantante, anche lì c'è nel senso per l'amor di dio bellissimo, però mi sembrava sempre che poi a un certo punto lo sguardo dell'altra persona un po' diventava tenero e diceva si vabbè l'importante è fare quello che io e seguire i propri sogni no? Perché il montatore è molto più concreto no? È concreto sì, è concreto. E visto che il regista comunque non è una delle professioni sempre usando le virgolette americana diciamo prestabilite o stabilite comunque sembra sempre un gioco oppure ah poverino vuol fare l'attore capito? Anche perché poi tipo quando lo devo raccontare a mia nonna che cosa fai di pratico sul set? Cioè non accendi la macchina da presa? Cioè nel senso non stai davanti, non l'hai molto probabilmente manco scritta completamente Che fai? Cioè alla fine poi però paradossalmente la macchina da presa non si accenderà se tu non dai o non si muoverà se tu non dici cosa deve fare quindi è molto strano perché poi a livello pratico, tecnico, concreto è molto poco Sì sì, è un direttore d'orchestra no? Tu dici ma stai suonando uno strumento? No, c'ho due bacchette in mano e una bacchetta e ogni tanto dico a delle persone di fare delle cose che sembra molto stupido e basico però la verità è che è il direttore d'orchestra nel senso che senza quel direttore d'orchestra neanche sapresti dove mettere l'obo Assolutamente, anche perché poi ci sono delle figure nel cinema che poi se... E me ne accorgo adesso che tipo devo racchiudere in una slide magari determinate cose come fotografia costumi e scenografia che se non sono allineati Cosa esce? Cosa pensi della committenza? Come la vivi la committenza? È una cosa che mi sto vivendo in questo momento proprio perché cominciano a lavorare appunto i primi lavori anche su commissione appunto La vivo in maniera particolare anche perché finché me la sono scritta, girata è sempre stato facile nel senso che comunque quando poi tu guardi al monitor quello che sta succedendo dici buona perché pensi che per te è veramente buona Mi sono ritrovato a girare cose per un committente, per un cliente per il quale non capivo se il buona che davo era perché conosco i miei polli e gli piace molto probabilmente o perché sta piacendo a me ed ho un po' di difficoltà Per fortuna poi ci sta questo banco sterile, sempre che è il montaggio in cui appunto magari spesso non avendo il cliente in cui lì poi capisco la direzione per il quale è buona per me però sul set è un po' più difficile Al stesso tempo però ho sempre un po' paura di come dire in un certo senso brandizzare ma non perché appunto utilizziamo termini come cliente perché poi cliente può essere anche magari appunto un libro bellissimo che magari ti riguarda da lontano e però devi girare però poi di essere sicuri sulla propria cifra stilistica magari è come dire un po' ripiegarla in ogni cosa quindi è anche lì un po' difficile perché poi sembra quasi che diventi un prodotto ci sono un sacco di registi per esempio che a me mi piacciono molto, mi sono piaciuti molto in cui però ho riconosciuto che quando hanno cominciato a teorizzarsi a capire che magari a un certo punto del film è bello se ci metti la musica trash che ho cominciato a capire che cavolo ha capito come si fanno i film Certo Ed è un problema secondo me perché uno dovrebbe sempre un po' anche perché ecco la cosa bella della committenza, quello perché ci sono tante cose negative ma la cosa bella è che qualcuno ti dà dei limiti e i limiti creano lo stile cioè quando dovevo girare il mio primo corto Stavo per dirti quello quindi l'hai detto tu, bravo quando dovevo girare il mio primo corto in cui avevo 8,50 euro, una mela, una camera e cavolo devo fare un film in cui voglio fare tutto questo quindi poi cominci a dire ah ok non ho soldi quindi va bene massimo due attori cavolo la location ok ho quella camera lì però è vuota ok si stanno appena trasferendo cioè i limiti poi aiutano anche a darti quei paletti che ti illuminano la strada e la storia quindi alcune volte è meglio invece nei casi in cui mi danno carta bianca paradossalmente è molto più difficoltà molto più difficoltà parla dei progetti che sono stati importanti per te da adesso cioè da quando sei uscito dalla Naba partendo anche dal primo progetto che magari era non da montatore fino ad oggi allora diciamo che a me mi è un po' scivolata la mano sul fatto ho fatto un sacco di cortometraggi troppi nel senso che comunque dalla Naba diciamo anche post Naba ne ho fatti 5 e di cui sono veramente molto contento perché poi mi hanno mi faranno fare delle cose belle però il tempo stesso poi ho detto cavolo però potenzialmente questa idea che magari è buona per un corto sarebbe dovuta essere buonissima per un film poi però succede sempre che nel momento magari in cui quella storia comunque ha già avuto carne quindi personaggio è già stata stampata montata è già stata riscritta in montaggio è veramente poi difficile riconsumarla è veramente tanto difficile per quanto dici cavolo questa è la storia giusta il momento giusto girata nel modo giusto però non hai sempre bisogno poi un po' di qualcosa di nuovo ma forse non e forse anche va bene forse va bene no? nel senso che se la dovessi rigirare con tutto l'amore che ci rimetteresti nel fatto che diventa un lungo ed era un corto non necessariamente sarebbe A la stessa esperienza o B la stessa cosa forse è meglio andare avanti sì è una falsa con Forzone è una falsa con Forzone sì è vero quindi 4-5 cortometraggi e poi il grande video che tutti hanno visto dei cortometraggi sono molto contento che poi una cosa anche che diciamolo che i cortometraggi servono perché è vero che ne hai fatti 5 e tu hai detto forse ne ho fatti troppi ma il circolo vizioso nel quale entri quando sei il montatore che in realtà è un regista e non vuole dire che è un regista per far capire che un regista deve fare delle cose quindi l'unico modo è fare una puntata a zero di qualcosa per far capire che tu hai un punto di vista un look poi appunto ti aiutano cioè almeno a me ha aiutato molto sia a capire in piccolo quindi diciamo più in provetta quello che per sé la macchina cinematografica durante magari quando si realizza un film però quello lo puoi capire magari anche a scuola comunque però anche quello che succede dopo il film quindi posta la locandina il font ma come anche il circuito fosse valiero quindi e quelle sono cose che come reagire alle reazioni come reagire alle reazioni come reagire al fatto che quando finalmente hai qualcosa da far vedere diventa un biglietto da visita esatto è molto più facile nel senso nel momento in cui appunto magari un prodotto è stato presentato ha vinto il corto vince a venezia e va tutto bene però prima che quel corto mi vinceva a venezia io non sapevo se fosse veramente perché magari è bello per te e quindi non hai quel coraggio anche è spesso una cosa che vedo anche tra alcuni miei amici che manca è anche un po' questo coraggio perché poi non deve essere per forza sicurezza in se stessi però il coraggio di nel senso dire ho finito un film basta nel senso non devo riaprire il montaggio ogni volta non sento che è perfetto questa scena l'avrei girata così quindi questo film lo lascio diventa il file.mov sul mio desktop lo vedo solo io il fatto che tu ti debba o possa o debba farti giudicare è una cosa difficilissima è difficilissimo e questa è una cosa anche che si deve imparare secondo me qualsiasi cosa tu faccia hai deciso di fare quella cosa prima lo porti a compimento poi lo porti a compimento col concetto che i cortometraggi li vedono in pochi i film li vedono in pochi e ancora di meno qualche volta è un momento storico un po' strano dove tutti vogliono vedere cose ma per far vedere le cose devi avere il coraggio hai detto la parola di poterti mettere su un piedistallo te ti devi mettere su un piedistallo cosa già difficile quanto ti senti un autore? di una storia riesco a capire cosa mi interessa sì cioè a me per esempio mi hanno proposto adesso una serie tv che tratta da un libro per il quale è un caso di cronaca nera molto pesante che dicono ma tu cosa c'entri con una cosa del genere? eppure in questa storia c'è un DNA che riesco ad intercettare e capire perché potrei farla perché potrei giocare perché potrei mettere la camera in quel punto lì e sapere perché lo metto in quel punto lì o indirizzare l'attore verso una determinata cosa quindi autore nel senso che magari tutto quello che faccio lo scrivo io o semplicemente perché anche qualcosa scritto da qualcun altro riesco a capire se c'è qualcosa che potrei dire io intendevo autore in quel senso che dice io se mi sento collegato a quello che sto raccontando in qualche modo lo scelgo di raccontare e poi sento che lì dentro c'è il DNA come dicevo ed è comunque anche se una storia che non hai scritto tu che in primis magari in questo caso ha scritto un caso di cronaca la realtà magari poi riscritta da uno scrittore e poi deve diventare una serie tv però comunque come autore hai riconosciuto un'autenticità tua in quella storia che non è tua faccio una domanda che è legato a a questo e ai lavori che hai fatto sento che oggi un regista che nasce può fare tante cose ci sono meno scatole e quindi tu parli di cortometraggi parli di serie televisive parli probabilmente di cinema perché hai parlato del fatto che magari quella cosa corta poteva essere lunga videoclip è bello il fatto che tu possa passare da un posto all'altro credi che sia credi di essere fortunato no? di poterlo fare sì perché comunque è bello esplorare diciamo nuovi linguaggi, nuovi formati quindi appunto il videoclip ma anche l'advertising la pubblicità ma anche il film ma anche la serie tv però è anche vero che i paradisi sono troppi e bisogna anche saper dire di no e spesso i no fanno parte comunque anche della sua filmografia poi ma certo nel senso che ci sono alcune volte delle proposte che sono economicamente allettanti o a livello di visibilità allettanti e anche lì bisogna avere anche il coraggio di dire di no perché magari è una proposta interessantissima anche lì di una serie tv che magari ti prenderebbe tanto tempo in preproduzione tanto tempo in montaggio tanto tempo poi che poi magari passa un anno della tua vita magari a fare una cosa di cui non sei al 100% certo ci cavolo però sono giovane devo stare un anno magari così su un setting in cui guardo un monitor che mi piace o non mi piace boh vabbè buona e quindi è importante devono anche dire dei no piuttosto dire magari un sì a qualcosa con meno budget meno visibilità e che però appunto porti dalla nonna e gli fai vedere guarda che ha fatto infatti guarda cosa è legato alla domanda sull'autorealità di prima nel senso che se tu sei consapevole dei tuoi del tuo quadrato del tuo non è per rimanerci dentro ma per sapere quando ci stai uscendo fuori e questo secondo me il che vuol dire che tu sei consapevole devi essere consapevole secondo me di quella cosa lì perché l'allettante c'è ci potrebbe essere dopo che magari ne becchi un paio di cose cominci a fare un film che funziona un videoclip che piace eccetera eccetera ma poi dopo devi capire che ripeto se sei un autore autore regista autore che scrive autore che fa alla fine tu firmi quella cosa si capisce che tu sei consapevole della firma che stai mettendo sui lavori che fai dalla risposta che mi hai dato quindi è bella questa cosa no? è verissimo infatti è molto comincia poi nel momento anche poi comincia anche a mettersi cominciano a mettersi anche delle variabili economiche perché io ci credo che all'inizio uno fa solo quello che gli piace perché comunque ha perso per perso nel senso che magari non ci vuole niente nel senso vai fai quello che ti piace poi nel momento quando cominciano ad esserci altre variabili come appunto visibilità interesse economico e diventa un po' più cioè l'autorealità comincia a combattere con altre variabili lo sapevi che succedeva questo con il video dei Mineskin? ma per il video dei Mineskin in realtà ero ero pranzo con l'art director dei Mineskin complimenti bellissima e adesso vogliono fare questa canzone che si chiama I wanna be a slave e visto che è un po' tutto quello che Giro ha un po' a che fare con i rapporti di forza all'interno della sfera sentimentale quindi dei piccoli poteri che si creano all'interno relazionale sento questo titolo e dico ma me la fai sentire mi fa sentire la canzone vabbè vedo già il videoclip di questa cosa ma anche lì non perché appunto ho sentito Mineskin ed è venuto il prurito della visibilità ho sentito il prurito di quello che di cui parlava la canzone del mondo che avrei potuto proporre per quella canzone lì sì in quel caso e puoi parlare di alcuni progetti che stanno arrivando sui quali stai lavorando adesso e fra 4-5 anni dov'è che ti vedi sapendo che A sei giovane B sei proprio lì lì che puoi toccare tante cose stai decidendo cosa fare com'è che ti vedi tra cinque anni quindi da adesso a poi allora in questo momento sto scrivendo contemporaneamente il mio primo lungometraggio e una serie televisiva tratta da un libro che tratto da un caso di pronaca ed è un momento molto bello perché sto scrivendo questo lungometraggio che è una cosa un soggetto originale quindi qualcosa che proprio proviene completamente da me mentre questa serie televisiva che è un soggetto completamente non originale al quale anche devo avere una certa fedeltà in rispetto di un processo di una vittima di dei carnefici insomma e quindi in cui c'è poca cioè posso manipolare poco all'interno della storia però posso entrare da tanti punti di vista differenti cioè posso entrare e mettere a luce determinate cose che interessano a me quindi sono dei progetti lo puoi spiegare così a tua nonna puoi spiegarlo così lo sai vero quindi sono dei progetti completamente differenti sia a livello di format sia a livello di approccio e questo mi piace molto tra cinque anni non ho il desiderio per forza di vedermi a fare qualcosa io spero che tra cinque anni anche magari non saprò cosa voglio fare se voglio fare una serie se voglio fare però almeno che ci sto pensando perché non ho detto non si non no basta se vado a fare il montatore esatto oppure magari a fare il montatore bello nella mia saletta no però almeno spero che ci sto pensando e non seguo dei flow che magari entro nel giro delle serie tv o nel giro di un film l'anno no? l'idea di spero che ci sto pensando credo che sia il modo migliore per finirla perché è molto descrittivo di quello che comunque hai detto hai raccontato in questa chiacchiera che abbiamo fatto quindi ti ringrazio per la chiacchiera grazie a te ti auguro tutto il più grande successo del mondo e poi alla prossima quando ci vedremo qua di nuovo a chiacchierare di nuovo grazie mille grazie mille grazie a te Simona grazie grazie a te Simona 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 Grazie.